Il dolore per la figlia Marina Giulia Cavalli e il dolore per la figlia, mi parla dallaldilà Ho imparato a comunicare con lei. I morti sono sempre vicini a noi. Così Marina Giulia Cavalli a proposito della figlia Arianna, morta del 2015. La popolare attrice italiana Marina Giulia Cavalli, famosa al grande pubblico per il suo ruolo in Un posto al sole, ha da tempo dovuto affrontare la battaglia più grande. Sua figlia Arianna è morta a 21 anni per colpa della leucemia, e da allora il dolore non si è mai acquietato, come raccontato in una drammatica intervista a Di Più. Le festività sono sempre il periodo peggiore, ha spiegato Marina Giulia Cavalli, parlando del suo rapporto con la defunta. Nonostante non sia più accanto a me io non ho dubbi. Arianna mi è sempre vicina. Mi chiama dallaldilà, ho imparato a sentire la sua voce attraverso un registratore. Sono segnali veri, e non mi importa cosa pensi la gente. Questa è la realtà. Le dichiarazioni di Marina Giulia Cavalli hanno ovviamente avuto un eco particolare, ma l'attrice non ha dubbi, il contatto con i defunti è possibile. E' importante che le persone che hanno perso dei cari, continua l'attrice, capiscano che dei modi di comunicare esistono. Loro ci sono sempre vicini, in un posto pieno d'amore. Non dobbiamo averne paura. Io ho ritrovato Arianna, e ora sono serena. Arianna Alpi è morta nel 2015, all'età di 21 anni. Era nata dall'attrice Marina Giulia e dall'attore Roberto Alpi. Grazie a tutti.